Riccio Juve chi è il giovane difensore della prossima generazione della Juventus ha chiamato la prima squadra da Allegri per Empoli Alessandro Pioriccio richiamato Massimiliano Allegri partita di domani tra Empoli Juve.Quest'anno la prima chiamata per il difensore della Juventus next gennaio prima squadra. Dato che è stato chiamato da Andrea Pirlo in Champions League nella stagione 202-2021 contro il Barcellona e quest'anno chiamato Allegri in Serie A in Juventus sudinese. Riccio ha concluso il suo secondo anno nella seconda squadra quest'anno, dopo essere cresciuto interamente nel settore giovanile della Juventus, a partire dagli under 15 punto difensore solido e roccioso, molto abile nella marcatura ma anche elegante nell'erbonti dalla parte posteriore. L'intervista esclusiva di Juventus News 24 con Alessandro Pioriccio